Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Torino spiritualità, benvenuto Gabriele. Grazie. Visto che parleremo di meditazione, di pratica meditativa in particolare, si pensava assieme a Gabriele di iniziare con un momento di pratica, se siete d'accordo, e quindi ci prendiamo cinque minuti di silenzio dove meditiamo, ciascuno nella sua pratica per chi medita, per chi non ha mai meditato comincia oggi a meditare, ci sono anche le luci soffuse, quindi se qualcuno si abbiocca va bene, anche questa è pratica. Anche questa è pratica, quindi ci vorrebbe una campana tibetana, non l'abbiamo, però ormai la tecnica ci viene in soccorso, abbiamo un'app che imita la campana, quindi ci introdurrà e chiuderà la pratica questo suono di campana. Grazie. 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 Bene. Io sono veramente felice di vivere questo momento con te Gabriele perché è un... per l'amicizia che ci unisce, c'è un'amicizia ormai di anni e quindi per me poter dialogare con te su tematiche che so stare a cuore a entrambi è importante, bello e lo considero veramente un dono, quindi proprio per questa amicizia. Poi farlo in un contesto come Torino Spiritualità per me è grandioso perché è un momento per la città di Torino importante, è un momento altissimo per tantissime persone. Il fatto che questi eventi siano tutti molto partecipati significa qualcosa, che la spiritualità sta a cuore, la dimensione dello spirito sta a cuore e quindi veramente è bellissimo. E sono anche così chiamato a... oltre a chiedeologare a presentarti perché non tutti ti conoscono, tantissime persone. Prima si diceva è un po' come essere in famiglia qua, i volti più o meno tornano, ormai ci si conosce. Però... cosa posso dire di te? O meglio, io dico tre cose di te e poi ti lascio la parola perché mi sembra opportuno perché è bene che ciascuno presenti ciò che sta a cuore ecco di se stesso. Beh, tu sei anzitutto un artista e mi piace ricordarti, presentarti come artista, Gabriele, e tra l'altro il suo nomastico oggi perché oggi è San Gabriele Raffaele Michele, quindi auguri di buon nomastico, Gabriele, anche a tuo figlio perché è Raffaele. Un artista perché hai studiato teatro, hai recitato, sei stato attore appunto di teatro, anche di cinema e quindi ha tutto un trascorso ventennale ecco come come artista, come regista e come sceneggiatore anche, sceneggiatore. Mi dicevi una cosa importante quando siamo entrati in teatro, ha detto qui al Carignano su questo palco ha debuttato... Algobetti. Algobetti, scusate ho detto Carignano, Algobetti. E quindi bellissimo che torni su questo palco sotto altra veste. Ma al di là dell'essere artista sei un maestro di arti marziali. Maestro è una parola grossa, non lo userei, però insegno arti marziali. Maestro di arti marziali, dove c'è lì in cintura nera, tra l'altro una conseguita da poco? Sì, di Tai Chi Chuan e una di Shaolin Chuan, come di solito è il percorso nella scuola del maestro Chang. Bene. E anche un... sì, qui posso usare veramente il termine maestro di vita spirituale. Ha una spiritualità molto profonda, Gabriele, è anche piacevole dialogare con te proprio per questa profondità. Abbiamo fatto anche degli scambi molto belli di vita spirituale, pratica la via meditativa, la pratica di meditazione da anni, da quando eri piccolo, anche perché l'hai respirata in famiglia. E quindi ce ne parlerai e sono molto curioso anche della tua esperienza. Ecco, aggiungi qualcosa perché penso che sia importante. Difficile aggiungere, hai detto tutto. Magari specifico un attimo, ho attraversato tre grandi tradizioni nell'arco della mia vita. Sono nato in una famiglia con genitori che praticavano il Kriya Yoga di Paramahansa Yogananda, che qualcuno conoscerà, qualcuno no, per cui tradizione è yogica. Ho avuto un periodo di un decennio cattolico, il periodo del mio matrimonio, in cui ho esplorato le pratiche contemplative cristiane, con l'aiuto di alcuni monaci che sono stati tanto gentili da istruirmi. E poi l'ultima parte della mia vita, da quando mi sono trasferito in Finlandia, 15 anni fa, e passa, ho incontrato la meditazione Vipassana, per cui la tradizione buddista Theravada. Magari nell'arco della serata dirò due cose per chi non è familiare con queste pratiche. Al momento io mi considero un libero meditatore, non appartengo a nessuna affiliazione di alcun genere, non voglio far parte di un particolare gruppo o comunità meditativa, anche perché la mia esperienza è stata di grande sospetto da parte di ognuno di questi gruppi, in quanto nello stesso tempo, praticando Tai Chi o altri stili di meditazione, sovente queste altre pratiche venivano considerate dalla comunità come un qualcosa di sospetto, un qualcosa di eretico oserei dire, e quindi non sentendomi benvenuto in nessuno di questi contesti, ho scelto di continuare a praticare le mie pratiche però da libero meditatore. Con questo però vorrei immediatamente mettere le mani avanti, non vorrei che questa serata scoraggiasse chi invece ha trovato in una tradizione il proprio sentiero. La mia posizione è assolutamente legata alla mia storia, inoltre andremo a trattare di temi molto importanti, poi ti chiederò di dire qualcosa un po' più solido rispetto alle mie parole da artista. Il titolo della serata è il perfezionismo spirituale, io in realtà sotto questa parola ho raccolto quattro argomenti che mi stanno a cuore, che ho sperimentato su me stesso come possibili cadute nei cammini spirituali, il perfezionismo, il narcisismo spirituale, il bypassing spirituale e le indigestioni di spiritualità. Ma vedremo queste cose. Di cui torino spiritualità, ecco, insegna ecco. Sono quattro tematiche grosse, quindi penso per le nove meno un quarto finiamo perché poi bisogna andare al Colosseo che c'è un altro. Quattro temi importanti, però cerchiamo di dire qualcosa di ciascuno anche se un po' rapidamente. Però prima di entrare in questi quattro temi, cioè stamattina mi è venuta in mente questa cosa, ascoltavo anch'io, ho fatto un po' di digestione in questi giorni di conferenze e si parlava di spiritualità ovviamente, nel tema spiritualità torna. Allora mi chiedevo anche che significato diamo noi alla parola spiritualità. Torino spiritualità, vita spirituale, pratica spirituale, poi useremo bypassing spirituale. Ma questo spirituale, spiritualità, ecco, mi chiedo, in realtà me lo sono sempre chiesto, ma cosa intendiamo con questa parola? Cosa intendiamo per vita spirituale? Ecco, ecco, io veramente, forse perché invecchiando c'è bisogno veramente di arrivare, di togliere, di definire meglio, di andare un po' al centro. Io personalmente, visto che è un dialogo, ecco, personalmente vita spirituale è quella vita, appunto, quella vita, quella pratica di vita che ti permette di entrare in contatto, io lo chiamo sé autentico, e tutto ciò che in qualche modo, forse anche consapevolezza, la consapevolezza di avere un centro, che è il vero sé, il sé autentico. Stamattina Vito Mancuso lo chiama il bene. Cioè, allora, la vita spirituale è la vita che ti permette, attraverso anche delle pratiche, per me la pratica meditativa, di entrare in contatto con il sé autentico, cioè quel qualcosa che rimane e rimarrà qualora anche tutto dovesse cadere. Ecco, allora, io veramente credo che la vita ha senso nel momento in cui fai un percorso che ti permetta di esperire, sperimentare, stare con questo centro. È lì che sperimenterai anche la tua postura umana, è lì che diventi pienamente umano, e lì soprattutto che puoi sperimentare la gioia. Prima ho tardato un po' a parlare di felicità, perché non mi piace questo termine felice, felicità, mi sa molto di americano, però forse gioioso. Ecco, la gioia, Gesù la chiama beatitudine. Interessante che Gesù non parli mai di felicità, ma di beatitudine. Allora, la vita spirituale è tutto ciò che ti permette di entrare in contatto con questo sé autentico. Io mi permetterei di aggiungere una sfumatura a questa definizione con cui, tra l'altro, mi sento in sintonia. Nella vita le cose più vere sono quelle che non vediamo. Le relazioni con noi stessi, con gli altri. E questo io chiamo spirito. E quindi per me un percorso spirituale è un percorso che mi aiuti a diventare consapevole, recettivo, sensibile all'invisibile. Ecco, mi viene in mente la bella definizione che dà di trascendenza Maria Zambrano, che cito spesso per questa donna, questo gigante. Lei definì la vita, o meglio la trascendenza, come uno sporgersi sull'ulteriore. Ecco, forse è proprio questa la spiritualità, no? È uno sporgersi su ciò che in qualche modo ti appartiene, ma che al tempo stesso ti supera. che al di là del tuo nome, del tuo cognome, della tua professione, al di là dei tuoi oggetti, di quello che possiedi, no? Ecco, quella spiritualità ti connette in qualche modo con ciò che è oltre, che fonda, ecco, il tuo essere in qualche modo, no? Ecco, la vita spirituale, ecco, io credo che abbiamo bisogno più che mai di donne e uomini spirituali. E un'altra cosa che tengo a dire è che la spiritualità trascende anche la religione. Cioè non c'è bisogno di appartenere, non c'è bisogno di un'appartenenza per vivere una vita spirituale. Anzi, non c'è neanche bisogno di un Dio per essere donne e uomini spirituali. Cioè non è il credere o non credere che ci fa esseri spirituali. Questo è il grande inganno, la grande trappola, no? Di una certa religione. Io ho conosciuto atei di una spiritualità profondissima. Norberto Bobbio, per rimanere nel nostro territorio, ma Bobbio diceva Io sono profondamente spirituale perché io credo nel mistero, non in un Dio, no? Ma nel mistero, nella trascendenza, in qualche modo, in questa cosa che ci supera continuamente. Ecco, allora salvarci da questo inganno di pensare che la spiritualità sia appannaggio soltanto dei cristiani o dei buddhisti o degli induisti, dei taoisti, no? La vita spirituale la possiede un ateo, un agnostico, un... È una possibilità, una componente umana, sì. Che possiediamo tutti, sì. Ecco, veniamo al nostro tema, il logo che accompagna questo nostro dialogo, questa serata, è la figura della trappola, non so se avete visto sul volantino, l'immagine della trappola. Mi ricordo c'era Armando che mi ha chiamato, non so se ti ha chiamato, ma ha detto, ma va bene se mettiamo una trappola, proprio una trappola... Sì, perché in fondo questo, la trappola... Nella vita spirituale ci sono molte trappole. Sì. Ci sono molte trappole, molte cadute, che sono importanti. Una cosa che vorrei venisse fuori da questo dialogo è anche il fatto che nonostante le trappole, la vita spirituale è importante, perché è una componente. È uno dei temi che affronteremo, il narcisismo, ed è una reazione da narcisista quando senti parlare male di una certa pratica, dire per quello non la faccio, e lavarsi le mani dal lavoro necessario invece per affrontare una pratica spirituale. Ci andremo in dettaglio. Sì, la prima trappola è il perfezionismo, la perfezione. Guardate, noi non ci pensiamo, ma non c'è... Può sembrare un paradosso, no? Nella pratica spirituale, cioè nella via della perfezione, non si dà perfezione. Nella pratica della pratica in qualche modo anche spirituale, che è sempre una pratica di perfezione, poi magari stiamo sulla parola, non si dà perfezione. E questo, lo so che è un paradosso, ma è tutto qui. Tu hai scritto negli appunti che abbiamo condiviso, il perfezionismo è il più grande ostacolo alla perfezione spirituale. Il perfezionismo è il più grande ostacolo alla perfezione. Allora, chi mastica un po' di vie spirituali sa quanto c'è questa tentazione di arrivare alla perfezione. Anche soltanto ho praticato cinque minuti, abbiamo praticato cinque minuti, ho fatto un po' di meditazione. E uno può dire, accidente, ma quanti pensieri mi sono venuti, guarda, oggi è andata male, no? Oppure, non so, ci sono tantissime le trappole appunto, no? Se noi pensiamo di praticare bene, di vivere una spiritualità buona, perché appunto, non so, non abbiamo, se non abbiamo, così, delle distrazioni, quando ci arriva una distrazione, diciamo, abbiamo fallito, sono caduto, no? E invece, invece no. Sì, quello che dico sempre ai miei allievi è che non c'è una pratica buona, una pratica cattiva, c'è solo la pratica che hai fatto e quella che non hai fatto. E di fatto, taglio la testa al toro in questo modo, perché è molto facile, e chiunque abbia fatto un qualsiasi tipo di percorso, anche nell'arte, diventare perfezionisti è molto facile, perché ovviamente uno vuole migliorare, c'è un aspetto proprio tecnico di abilità, di capacità di resa, che con la pratica migliora. Il problema è quando si trasforma il percorso di miglioramento in un obiettivo da raggiungere, per cui la perfezione diventa un obiettivo. Io posso diventare perfetto, e quindi faccio tutto quello che posso, perché così un giorno sarò perfetto, potrò dirmi sono arrivato. Guarda, tu hai masticato un po' di cattolicesimo all'inizio del tuo percorso, io credo che il cattolice, in particolare, non parlo di cristianesimo, parlo di cattolicesimo, ci abbia proprio rovinato in questa idea di perfezione, cioè noi dobbiamo diventare perfetti, quindi ecco l'etica, la morale, fai tutto per non sbagliare, per non cadere, con tutta la nascita di devastanti sensi di colpa. Quanti sensi di colpa, proprio derivanti dal fatto che avevo un obiettivo, avevo un ideale in testa, non ho corrisposto, sono caduto, ecco allora sono incapace, non riesco a vivere la vita spirituale, perché sono veramente un peccato, tutta questa roba qui ci ha segnati, ma questo è devastante, è devastante. Ecco io veramente credo che porsi degli ideali sia proprio nella vita spirituale, anche nella pratica meditativa, sia l'inizio della fine. No, l'ideale in qualche modo. C'è un matematico polacco che diceva ai suoi studenti, Koszynski, diceva guardate ragazzi, la mappa non è il territorio. La mappa non è il territorio. Anche nella vita spirituale si vuole questo, no? Sì, ma anche la pratica spirituale può, come dicevamo prima, diventare solo una stampella a cui uno si appoggia tutta la vita. Mi hai fatto questo esempio prima di questa conferenza. E in quel momento diventiamo dipendenti da un qualcosa. È una forma quasi consumistica di utilizzo della pratica. Non avere un'idea preconcetta di come debba andare essere la vita spirituale o come debba andare una pratica. O come cosa deve succedere. Tutto questo deve che ci poniamo dentro. È devastante perché poi le cose sicuramente non andranno come tu le hai pensate. E allora, ecco, vivi l'imperfezione finalmente, è deliberante. Invece noi ci creiamo un sacco di sensi di colpo perché ecco la perfezione è come corrispondenza tra quello che vive e quello che hai pensato. Sì, adesso reagisco subito a queste affermazioni. Perché io nel mio percorso di ricerca con le arti spirituali ho sempre cercato anche un modo di viverle come arti appunto. A me piace chiamare le arti spirituali perché per me la meditazione, le arti marziali o qualsiasi percorso che abbia anche un aspetto introspettivo lo approccio come una forma d'arte e anche la parola arte può essere intesa in tanti modi. Per me l'arte deve avere almeno due aspetti che vanno in parallelo come l'inspirazione e l'espirazione. un aspetto di introspezione, di conoscenza, di incontro con se stessi e un aspetto di espressione, di condivisione. Così come inspiro ed espiro e la respirazione non avviene senza questi due atti per me introspezione ed espressione sono il respiro dell'anima questo è arte per me. E l'aspetto del gioco che fa parte dell'arte secondo me, io mi permetto di proporlo come l'antidoto al perfezionismo il gioco è una cosa seria tra l'altro non è che bisogna reagire alla parola con disprezzo perché stiamo parlando di meditazione quindi è una cosa importante e profonda noi impariamo giocando se manca l'aspetto del divertimento della curiosità, dell'esplorazione questa passione è molto difficile imparare cose nuove non soltanto a livello intellettuale ma anche a livello proprio di pratiche incorporate di filosofie incorporate come sono le arti marziali per esempio o la meditazione in tutte le sue varianti per non essere perfezionisti bisogna ricordarsi ritornare al gioco ieri ho condotto questo laboratorio sempre per Torino Spiritualità e lo abbiamo cominciato con un esercizio che era una via di mezzo tra una seduta di parapsicologia è una provocazione proprio a certe idee che si possono avere sulla meditazione ho chiesto a tutti i partecipanti di sollevare una bottiglia con il pensiero senza muoversi e abbiamo passato qualche minuto con questo esercizio i commenti che sono arrivati subito dopo quando abbiamo commentato l'esperienza hanno immediatamente portato alla luce le problematiche classiche che chiunque incontra meditando l'unica differenza è che meditando in teoria non dovresti avere uno scopo ma sovente ce lo diamo questo scopo e questo produce il perfezionismo lo scopo di sollevare la bottiglia con la forza della mente che per carità io non escludo magari qualcuno ci riesce anche a me non è mai capitato è un obiettivo da raggiungere ma l'operazione in sé di portare l'attenzione su un qualcosa che sia una bottiglia o il mio respiro o un'immagine una visualizzazione quella è un'esperienza vera non possiamo toccare questa cosa e quindi ci insegna delle cose prima di tutte ho sentito il classico commento ah ma ero distratto e questo è anche quando insegnavo meditazione ai bambini non mi aspettavo di sentire delle risposte dei giudizi su se stessi così severi non riuscivo a rimanere sull'oggetto d'attenzione la mente mi portava il fatto che è quello il gioco nella meditazione è quello il gioco sappiamo che l'attenzione ha una sua durata limitata i pensieri ti portano altrove quando te ne accorgi non è una sconfitta al contrario è una conquista perché in quel momento in cui te ne accorgi sei consapevole per cui abbiamo la tendenza a buttarci giù quando notiamo che siamo pieni di limiti in realtà è proprio il momento in cui lo notiamo che viene fuori la forza mi preme parlare di questo argomento per aprire come dire uno spiraglio di luce quando parliamo di perfezionismo perché io non cancellerei la parola perfezione dal vocabolario è importante se pensiamo alla perfezione come un cammino di compimento e non come un arrivo un punto di arrivo questo cammino conviene farlo si sta bene quando lo si fa non bisognerebbe farlo con lo scopo di stare bene e questo è il paradosso del perfezionismo quello che nella filosofia taoista e nelle arti marziali cinesi viene chiamato Wei Wu Wei l'azione senza azione questi paradossi hanno sempre una bella possibilità perché non possono essere risolti con una formula fissa sono domande sono aperti come si fa ad agire senza agire come si fa a mettere da parte questo ego che ci ingombra che ci blocca questo nostro giudizio e concludo questa questa parte del mio intervento prendendo un esempio dall'arte proprio staccandomi un attimo dalla meditazione una grandissima educatrice del disegno artistico Betty Edwards pubblicò un libro che mi ispirò da bambino disegnare con la parte destra del cervello dove spiegava che la ragione principale per cui alcuni bambini continuano a disegnare e diventano degli artisti e alcuni bambini smettono è perché a un certo punto del nostro sviluppo una parte di noi prende il sopravvento ed è quella parte del giudizio ah ma questo non è come avrei voluto che fosse l'aspettativa quando uno costruisce un'aspettativa ecco che incontra anche il fallimento non credo sia giusto vivere senza aspettative perché a me piace l'idea che ci sia il rischio di fallire perché quello fa anche parte del gioco aggiunge questa 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 eccitazione di vedere come va la cosa però se poi il fallire diventa un un problema perché la meta era diventare perfetti di essere perfetti subito allora ci si blocca e si smette io credo che questo stesso discorso possa essere trasportato pari pari in qualsiasi contesto di pratiche spirituali sì grazie mi è venuto in mente mentre parlavi che Gesù stesso nel Vangelo a un certo punto dopo un lungo discorso in realtà bisogna sempre contestualizzare le frasi di Gesù altrimenti non ne veniamo a capo dice siate perfetti come perfetto il padre vostro quindi Gesù invita la perfezione ma non una perfezione morale una perfezione etica a cui fecevamo accenno prima ma perfezione proprio come compimento dell'umano cioè portate alle estreme conseguenze la vostra umanità poi in quel contesto vuol dire attraverso il bene che fate attraverso la coltivazione del bene quindi la via dell'amore in qualche modo è questo che ci porta a livello etico diciamo al compimento diventiamo umani pienamente attraverso la via del bene quindi la perfezione è certo ma il perfezionismo in qualche modo è lì che dobbiamo in qualche modo guarire faccio un passo indietro tu hai parlato prima di gioco sì la meditazione la pratica meditativa è un gioco è un gioco ma perché è un gioco perché è essenzialmente inutile cioè io credo che ciò che ci salva è in qualche modo il compiere azioni inutili cioè è l'inutilità a cui non siamo più avvezzi in qualche modo non siamo più abituati per noi compiere azioni inutili è un assurdo o meglio il contesto sociale e culturale in cui siamo cresciuti e in cui siamo immersi ci dice ma cosa fai giochi perdi tempo in qualche modo mediti no oppure ma anche anche l'arte è inutile l'arte è inutile le grandi cose la cultura è inutile vi ricordate no con la cultura non si mangia è proprio quella frase di un politico no è proprio l'emblema del nostro contesto con la cultura non si mangia e quindi ecco qui si apre tutto il discorso dell'uninutilità ecco l'inutile la pratica meditativa è un'azione inutile ecco perché è un gioco perché non c'è utilità tu cosa aspetti dal certo che è importante l'attesa ma come diceva Simone Weil un'attesa senza oggetto un'attesa attendi ma senza attendere ciò che ti sei messo in testa che debba raggiungerti anche perché sarà una sorpresa non sarà mai quello che ti aspetti ecco capi ecco il desiderio no in qualche modo stamattina ho ascoltato Recalcati che si è fermato molto sul desiderio ecco io quando incontrerò Recalcati di persona due cosette sul desiderio mi piacerebbe che me le spiegasse proprio cioè se la felicità consiste nel vedere realizzati compiuti i propri desideri ecco è lì che c'è qualcosa che non va vi leggo perché ce l'ho qua sotto l'ho citata ieri mattina alla meditazione che abbiamo fatto all'aperto ecco eravamo sotto zero quasi ma infatti qualcuno si ricorda era presente Oscar Wilde nel 1892 scrive una una commedia geniale come sono le sue e scrive in questo modo ci sono soltanto due tragedie una è non avere ciò che si desidera l'altra è ottenerla quest'ultima è la peggiore la vera tragedia ecco la dice lunga sta la dice lunga perché in fondo la pratica meditativa la vita spirituale è un e si è porsi in atteggiamento di di attesa ma in senso di apertura in qualche modo ecco perché è inutile cioè tu non fai qualcosa perché ti raggiunga quello che tu hai hai in testa ecco nella meditazione deve succedere questo questo devo sentire un altro verbo devo sentire io pratico perché sento qualcosa ecco sentire ecco qui oppure devo sentire qualcosa deve succedere questo non devo avere distrazioni ecco quindi desiderare anche sì ma senza desiderare desiderio senza desiderio attesa senza oggetto essere aperti ecco perché la pratica meditativa forse è proprio questo un essere aperti a ciò che vuole raggiungerci non ciò che abbiamo invocato e qui si aprirebbe tutto il tema anche della preghiera io dico sempre diciamo prima no un Dio utile e qui cadiamo in teologia no ma un Dio utile è inutile nel momento in cui per te Dio è utile a qualcosa cioè tu invochi un Dio sta in relazione con un Dio perché ti aspetti qualcosa da Lui beh lì non c'è più nulla di vita spirituale ma neanche di cristianesimo in realtà o comunque di cioè Dio non è lì perché deve soddisfare le tue attese ecco quindi la preghiera come la pratica meditativa che è una forma di preghiera ecco non è il compimento del tuo solletico ecco desiderante sì e credo questo ci possa aiutare anche ad allacciarsi al secondo tema quello del narcisismo spirituale vorrei aggiungere una piccola cosa anche questo è un commento che abbiamo fatto prima di questo incontro io sono grato al ruolo della scienza da quando soprattutto le neuroscienze e le scienze cognitive hanno cominciato a studiare la meditazione sono grato perché ci hanno aiutato a capire il fenomeno della meditazione in modi nuovi scollandola da da tutto il come dire il peso di filosofie e tradizioni dall'altro però proprio pensando a quanto hai appena detto la scienza ci ha fatto un favore ma anche uno sfavore perché oggigiorno la meditazione viene utilizzata moltissimo in medicina in psicoterapia per risolvere per aiutarci a ottenere delle cose è un bene non voglio dire che non lo sia ma sovente questi risultati questi nuovi modi di utilizzare alcune pratiche vengono impugnati come mezzi per commercializzarle per vendere la mindfulness o quale che sia la propria pratica perché se pratichi questa cosa avrai questo effetto otterrai questo beneficio e entrando in questa dinamica consumistica abbiamo completamente perso il senso di un qualcosa che non dovrebbe avere un un'intenzione non dovrebbe portarti da nessuna parte e solo così ti può aiutare a camminare e pensando a queste cose che hai di cui hai parlato dicevo sì questo potrebbe essere proprio un ponte per introdurre il concetto di narcisismo spirituale un'altra trappola piuttosto importante e problematica vorrei distinguere quello che definisco narcisismo spirituale dal narcisismo in genere perché il narcisismo è proprio una patologia difficile da trattare tra l'altro ci sono ancora discussioni se sia effettivamente possibile soprattutto una persona narcisista che abbia voglia di fare qualcosa sul narcisismo è difficile da trovare però il narcisismo spirituale è un termine utilizzato ormai diciamo non solo in ambiti spirituali ma anche in ambiti di psicoterapia sono dinamiche in cui tutti prima o poi cascano e se uno non osa fare dei passi in un percorso di autoconoscenza per paura di non cascare in questa cosa forse fa uno sbaglio da narcisista si può esprimere in tanti modi io dico due cose di questo e poi ti chiederò di implementare le informazioni il narcisismo è un senso di superiorità che in ambito spirituale può avvenire facilmente ogni qual volta io creda che se tutto il mondo adottasse la mia pratica la mia fede allora il mondo sarebbe migliore quando io mi pongo al di sopra degli altri perché praticando questa cosa avendo questa fede io posso fare del bene agli altri che gli altri non possono fare o ancora e questa è più sottile e mi sta molto a cuore perché l'ho come dire l'ho vissuta sulla mia pelle in tanti modi soprattutto come vittima quando pratiche come la preghiera come guarigioni energetiche a seconda delle tradizioni a cui si appartiene ci sono diversi modi nel buddismo c'è la pratica di metta bhavana la gentilezza amorevole un modo per mandare pensieri di amore e compassione all'altro e anche a se stessi ecco quando io pratico queste cose il rischio grandissimo è di pensare che così facendo avrò un impatto sul mondo sull'altro io prego perché tu stia bene così questa preghiera ti raggiunge e tu starai bene questo diventa è un modo consumistico di usare la pratica è un'illusione parleremo anche come dire un po' un paradosso perché in realtà qualcosa di vero c'è in questo pensiero tuttavia bisogna prenderla con molta attenzione e mi piacerebbe così se me lo permetti citare Chandra Candiani poetessa che è stata anche presente a Torino Spiritualità ecco purtroppo era quando io gestivo la mia il mio laboratorio avrei voluto incontrarla Chandra Candiani poetessa buddista proprio di pratica parlando della pratica metta bhavana che è una pratica che fa parte del buddismo teravada ma in realtà in tutto l'ambito buddista la gentilezza amorevole è una pratica che io avvicino moltissimo a certe forme di preghiera è una pratica in cui di solito viene fatta al termine di una meditazione in cui si mandano pensieri di benevolenza verso l'altro anche verso se stessi anche verso i propri nemici se uno ne ha ed è una pratica che richiede una grande apertura del cuore una vera connessione con l'altro una vera comunione direi e il rischio lei lei stessa credo lo abbia vissuto in prima persona così come è capitato a me è quello di reificare la pratica di renderla proprio uno strumento con cui tu puoi avere un impatto con l'altro e lei dice anche che non mette in dubbio l'impatto della gratuità però dice di fare attenzione e vi leggo proprio così non faccio come dire non voglio tradire la bellezza delle sue parole quello che scrive Chandra Kandilani dice è importante non reificare questa pratica incommensurabile questo luogo dove il cuore può rinascere non farne una magia di controllo dell'esistenza propria e degli altri è solo un canto un augurio di bene nient'altro si sa che la gratuità ha ampie conseguenze ma non è questo il punto il punto è conoscere lo scuro in noi e invitare a farsi vivo il limpido diffonderlo intorno a noi senza confini e senza puntare ai risultati il cuore è di tutti non c'è un solo un cuore mio o tuo o suo c'è un cuore che non appartiene a nessuno e risuona è impersonale e fluido è senza proprietari sì la grandezza di Chandra è tutta qui sì è una trappola anche questa nella nella preghiera cristiana questo è veramente una grande trappola è un ambito molto delicato quante volte si dice prego per te prego per te o preghiamo per la pace preghiamo per questo per quello ecco il narcisismo mi pare di comprendere le tue parole è proprio questo pensare che che la mia potenza in qualche modo la mia capacità ti raggiunga in qualche modo e e compia in qualche modo un risultato ecco mentre in realtà è qualcosa di molto più ampio ecco e in qualche modo vivere anche il distacco no il distacco di da risultato ecco questa ecco il perfezionismo sta anche qui in qualche modo no pensare al risultato ecco il discorso dell'inutile ecco perché la preghiera è inutile tu prega cioè poniti in questo atteggiamento di apertura no entra in collegamento perché poi veramente entriamo in contatto con tutti quando siamo in questa dimensione però non essere attaccato al risultato in qualche modo ecco la pratica inutile in questo senso qua e qui ci porta passiamo al terzo perché qui il tempo va avanti alla terza trappola che è quella del bypassing spirituale ora rischiamo di non diamo nulla per scontato il bypassing spirituale è dagli anni 80 che se ne parla molto in ambito ovviamente di spiritualità ma anche di meditazione di mindfulness però credo che è bene chiarirla vi do una definizione che ho trovato che può dire qualcosa per introdurre il nostro discorso sul bypassing il bypassing spirituale è un tentativo di usare la propria spiritualità o pratica di meditazione non per venire a patti con la realtà così com'è ma per sfuggire evitare o sopprimere la realtà così com'è guardate che questa cosa è potentissima cioè usare la spiritualità usare la meditazione per fuggire per rifugiarsi in un mondo parallelo per non entrare in contatto con il dolore la sofferenza la situazione difficile in qualche modo per tradire il qui ed ora allora se la nostra spiritualità la mia religione la mia vita spirituale è un bypassare in qualche modo farmi trovare fuori dal momento presente beh c'è qualcosa che non va non va è quella la trappola in qualche modo e io credo che questa cosa circoli è molto presente sì mi permetto di raccontare un aneddoto una quindicina d'anni fa frequentavo il gruppo di meditazione di Paramansa Yogananda e venne un ospite era una persona che aveva praticato il Kriya Yoga per 30 anni e tutti la tenevano in grande rispetto per questa ragione che aveva praticato per 30 anni tutti i giorni e siccome la persona era anziana io ero stato incaricato essendo il più giovane di prendermi cura che potesse salire le scale scendere le scale all'inizio e al termine della meditazione e avvenne un fatto un piccolo scambio di dialogo che io trovo proprio l'emblema di questo bypassing spirituale al termine della meditazione vogli riaccompagnarla a farle scendere le scale e le domandai semplicemente come sta perché vedevo che barcollava un pochino e in quel momento assunse un'espressione molto mistica mi guardò un momento e disse devo ancora ritornare su questo mondo e io le risposi lì per lì a bruciapelo non si preoccupi le ho messo un messaggio nella segreteria telefonica lo riascolterà quando torna ma riflettei su questo su questo fatto perché per me la meditazione è sempre stato un modo per stare nel mondo non per scappare se ho dolore lo osservo nella meditazione non cerco di scacciarlo cambiando posizione e lì c'è come dire un insegnamento utile altrimenti appunto mi pare una fuga dal mondo ma il bypassing spirituale non si esprime soltanto in questo modo è proprio a volte una una trappola nel senso che evitiamo di maturare a livello emotivo psicologico con la scusa con la scusa che stiamo facendo una pratica ci sono intere comunità io ne ho frequentate un po' nell'ambito buddista che proprio come statuto scoraggiano un certo tipo di pensiero critico incoraggiando invece a una devozione una forma di fiducia nei confronti dell'insegnante o della tradizione e questo trasforma le persone in bambini ma non nel senso buono proprio nel senso infantile si diventa dipendenti e non si mette più in discussione la propria fede la propria pratica e sovente una ecco il caso che mi ha toccato proprio da più vicino io molti anni fa ho avuto un periodo di qualche anno e però in quel periodo frequentavo una comunità una particolare comunità di meditazione vipassana dove lo stesso capo l'insegnante che la fondò scrisse parole che mi permetto di citare proprio per non fare sbagli io come sempre cerco di fare cito le fonti scrisse e sono pubblicate per quanto concerne la psicologia e la psicoterapia occidentale queste si trovano ancora a un livello molto superficiale a un livello più profondo ogni tipo di combinazione di queste con la pratica di vipassana sarà dannoso e questo lo diceva il capo una filosofia del genere diffusa poi in mezzo a tutti i praticanti io ho esitato molto prima di chiedere aiuto perché pensavo che la pratica di per sé andando in profondità mi avrebbe aiutato a risolvere tutta una serie di questioni legate al mio sviluppo psicologico per cui invece avevo bisogno di tutt'altro tipo di aiuto ecco questa è anche una forma di bypassing spirituale mi ha toccato sul vivo e credo che in tante varietà se ne trovi dappertutto sì a tutti i livelli anche nella tradizione cristiana molte volte vengono da me persone che chiedono di poter fare un'esperienza spirituale o di cominciare una pratica meditativa quando è chiarissimo che il problema sta da un'altra parte cioè persone che avrebbero veramente bisogno di cominciare un percorso di psicologia di psicanalisi di accompagnamento ecco quindi io cerco ovviamente con molta delicatezza perché qui puoi essere anche molto delicati a dire forse non è proprio quello di cui hai bisogno in questo momento la spiritualità può essere anche un cioè meditare mattina e sera va benissimo però non puoi chiedere al cammino spirituale di risolvere cose che tu non vuoi affrontare in qualche modo e questo è qualcosa che torna spessissimo c'è tutto un altro discorso che meriterebbe non è questo il contesto ma quando si parla delle forme di di esorcismo ad esempio nel cristianesimo io mi fermo nella tradizione che conosco ecco anche lì c'è veramente da aprire un mondo c'è queste possessioni demoniache che hanno bisogno dove si chiama l'esorcista quindi la chiesa in qualche modo come istituzione che può liberare ma è chiarissimo che lì ci sono dei grossi delle patologie psicologiche e lì deve entrare qualcosa di psicologico ad aiutare queste persone non certamente la spiritualità o l'invocazione di un dio o di uno spirito ecco però si fa molta fatica si fa molta fatica anche in questo ambito e non soltanto in quello buddista ecco ecco se io devo pensare a un antidoto a me piace anche pensare c'è l'antidoto a ogni problema in questo caso penso che sia importante e qui veramente le neuroscienze vengono in aiuto perché hanno fatto come dire ricerca su tanti tipi di meditazione su tante pratiche è importante ricordarsi che non esiste una pratica universale ma a seconda delle tipologie psicologiche ogni persona ha bisogno di un percorso individualizzato e non esiste una tradizione pura perché la storia umana è un intreccio di cose e questo dovrebbe in qualche modo aiutare a ritrovare l'umiltà e a mettere in prospettiva quello che si sta facendo ricordandosi appunto che ogni pratica ha i suoi limiti ogni pratica funziona in un determinato modo oserei addirittura dire che quella famosa immagine di tutti i sentieri che vanno tutti sulla stessa vetta della montagna non importa da che parte parti forse vanno nella stessa direzione però non so se toccano proprio la stessa vetta perché ci sono tanti modi di essere liberati tanti modi di essere illuminati per cui è chiaro che c'è un concerto una sinergia un'armonia tra le tante forme le tante fedi i tanti sentieri però non abbiamo nessuna prova reale e concreta tangibile indiscutibile per poter fare un'affermazione del genere che tutti i sentieri portano alla stessa montagna possiamo semplicemente constatare che delle persone di pratiche diverse fedi diverse che prendono seriamente il proprio cammino seriamente come se fosse un gioco per cui veramente facendo esperimenti provando scoprendoli sicuramente sono in un livello di sintonia e questa è l'unica cosa che possiamo dire proprio a livello di esperienza credo che ciascuno di noi ha trovato anime affini che magari fanno vite completamente diverse dalla nostra che vengono da storie completamente diverse ma vibriamo insieme ecco sì mi fa venire in mente c'è un passo evangelico per rimanere nella tradizione nostra occidentale molto bello dove Gesù incontra un appartenente a un'altra tradizione che non era quella giudaica ebraica semita ma incontra un romano ecco un centurione romano pagano però dice elogia la fede di questo uomo nessuno in Israele ha trovato una fede pari a questo pagano sembra una bestemmia in realtà per quel contesto infatti poi verrà giudicato anche per questo Gesù quindi Gesù elogia la fede di questo uomo non è che lo invita a dire ma guarda tu sei un pagano quindi se vuoi fare un'esperienza di fede un cammino di compimento entra nella nostra tradizione ecco no che quella ebraica invece elogia quella fede ma la fede allora cosa è la fede in questo caso e infatti dice vai la tua fede ti ha salvato in questo caso ha salvato l'uomo il servo in qualche modo che di cui chiedeva la guarigione cioè la fede è abbi fede in qualche modo delle tue potenzialità cioè in qualche modo ciò che ci salva e questo ci tengo veramente a dirlo ciò che ci salva non è l'affidamento a una tradizione a un Dio ciò che ci salva è entrare in contatto con le nostre potenzialità più profonde con il nostro vero sé allora va la tua fede ti ha salvato cioè ti ha salvato ha salvato ma nel senso aver in qualche modo giocato sulle tue potenzialità in quello che credi vero dentro di te ecco allora forse veramente non c'è una strada unica e forse non c'è neanche una meta unica no ma la meta o se vogliamo la propria salvezza è entrare in contatto dilatare portare alle estreme conseguenze questo fuoco interiore questa scintilla questa energia che di cui siamo tutti abitati in qualche modo ecco questo passo di Gesù del Vangelo lo trovo grandioso ecco perché un invito costante a entrare in contatto con con il divino in qualche modo che ci portiamo dentro o questa luce che tutti possediamo poi ovviamente la religione le religioni le strade le vie sono dei mezzi ecco sono sempre delle strade per il compimento ma non confondiamo la salvezza con le vie no con gli strumenti noi confondiamo la meta con la strada in qualche modo ma non è così non è così beh mi viene in mente che appunto ci sono tanti punti di risonanza tra percorsi diversi compresi i problemi perché a quanto pare non importa la pratica la fede eccetera ma queste dinamiche sono dinamiche umane ecco questi problemi che abbiamo listato fino ad adesso sì e ci rimane l'ultimo sì ci capita a fagiolo direi che tra l'altro bisogna chiudere perché sono le quattro e un quarto sì l'ultimo è l'ingordigia sì io l'ho chiamata indigestione di spiritualità prendendo a prestito questa definizione da Yogananda che ne parlava a suo tempo quando alcuni dei suoi studenti leggevano dieci traduzioni diverse della Bhagavad Gita e poi facevano un po' di una pratica un po' di un'altra e provavano un po' una religione un po' un'altra e ascoltavano una conferenza un'altra 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 e facevano tanti laboratori diversi eccetera rischiando invece di fare un cammino in profondità di rimanere persi in superficie senza effettivamente una concretezza di risultati e a questo proposito mi viene in mente una frase che mi ha ricordato un mio giovane amico che sono andato a trovare ieri di Bruce Lee Bruce Lee parlando di arti marziali diceva a me non fa paura una persona che dice conosco diecimila tecniche di arti marziali ma se uno mi dicesse conosco una tecnica e l'ho provata diecimila volte allora sì ho paura ecco mi piace pensare che questo si applichi bene anche al discorso dell'indigestione di spiritualità e qui credo che recuperare la differenza che a me sta a cuore che ti accennavo prima la differenza tra esperienza ed evento guardate questo lo dice la recupero ecco una citazione in realtà di un filosofo che amo molto io ritengo il più grande filosofo che abbiamo oggi in Europa che è Byung-Chun-Lan il grande filosofo sudcoreano di tradizione di nascita ecco ma insegna a Berlino filosofia e Byung-Chun-Lan dice stiamo attenti a non confondere l'evento o meglio l'esperienza con l'evento cioè l'esperienza non siamo noi a fare un'esperienza non siamo noi capaci di fare un'esperienza spirituale rimaniamo nel nostro ambito della spiritualità ma noi siamo fatti dall'esperienza cioè altrimenti rischiamo veramente di affastellare eventi tanti eventi tante conferenze tante pratiche ma rimangono eventi cioè fini a se stesse chiuse senza un futuro senza una fecondità invece la grande esperienza è rimanere aperti farsi vasti ecco io dico sempre la possibilità di fare voto di vastità ecco no come dice Bargonzoni fare voto di vastità e poi lasciarci raggiungere il discorso di prima è lì che c'è l'esperienza siamo esperiti non soggetti di esperienza altrimenti confondiamo gli eventi e confondiamo tutte le nostre esperienze con degli eventi ma ecco ancora rifacendosi rimanendo nella tradizione cristiano cattolica è una grande tentazione della Chiesa di pensare di essere maestra di esperienze quando è soltanto una moltiplicatrice di eventi io credo che un po' la Chiesa si sia ridotta questa oggi essere fautrice di tanti eventi che è vero fanno rumore riempiono le piazze quando riescono si contano i numeri però è stata un'esperienza o è stato un evento ci si è fatti vasti cioè capaci vuoti per poter esperire qualcosa che ci ha raggiunto o abbiamo soltanto affastellato cose sì concluderei appunto con un paio di antidoti all'indigestione spirituale uno penso che sia molto importante ovviamente soprattutto se una persona sta ancora cercando provare cose per cui non è sbagliato assaggiare diverse cose ma poi specializzarsi in una o due cose e rimanere curiosi di tutto perché la curiosità non deve morire però può anche prendere una direzione e c'è una un'antica formula che arriva dallo yoga è molto bella e chiudiamo con questa che dice questo se tu leggi per un'ora scrivi per due ore e medita per tre così evitiamo di fare indigestione ma anzi digeriamo quello che abbiamo letto ascoltato provato e lo facciamo nostro e questa questo antidoto torna bene anche alla chiusura non soltanto del nostro incontro ma stiamo alla chiusura anche di Torino Spiritualità di questi giorni di questo festival con tantissime proposte e l'augurio che vi facciamo io e Gabriele veramente è che voi possiate adesso fare un'esperienza profonda di vita spirituale e non soltanto essere stati spettatori di eventi grazie grazie